buonasera dalla redazione di flores multimedia in studio marco gargini iniziamo dalla 1 dove sulla variante di valico per il traffico intenso ci sono rallentamenti tra firenzuola e badia in direzione bologna sempre una 1 si segnala nevischio tra il bivio con la variante di valico e aglio neve invece in a 15 tra borgotaro e pontremoli e attenzione perché sono in azione i mezzi spargi sale sulla fipili da domani possibili disagi per lavori tra ginestra fiorentina e monteluco fiorentino nei due sensi di marcia i lavori dureranno fino a fine giugno a firenze oggi fino alle 23 in via levolta sarà chiuso il tratto da via passa avanti a piazza delle cure per lavori muoversi in toscana info è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze anche per oggi è tutto a domani buon viaggio grazie a tutti